Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi si parla ancora di Serie A perché voglio mettere i puntini su quella che è stata una stagione emozionante, molto bella, con molte novità, circa anche i giocatori che sono arrivati, che hanno giocato molto bene in questa stagione. Voglio fare anche quest'anno, come lo scorso anno, se non erro, la top 11 della formazione ideale tenendo conto di tutte le squadre. Ovviamente è chiaro che terrò conto più delle squadre sopra la classifica perché alla fin fine chi gioca bene, chi ottiene punteggi, punti, posizioni, importanti, ha anche più occhi di riguardo. Vi manderò le schermate con le formazioni, ho i primi 11 e la panchina, cioè altri 11, appunto perché i nomi comunque sono tanti, mi pareva giusto metterne altri per non scontentare nessuno. Ho fatto una scelta e come ogni scelta ci sono delle scelte da fare, dei sacrifici da fare, quindi qualcuno magari sto escluso, ciò non vuol dire che abbia giocato male, ma semplicemente che su centinaia di giocatori sceglierne 22, soprattutto 22 secondo posizioni e ruoli, non è facile. Quindi spero che la cosa comunque vi piaccia e ovviamente qui sotto aspetto alle vostre formazioni. Sigla. Eccoci qua, questa è la mia formazione, sia chiaro, questa è una formazione di 11 perché poi vedremo anche i 22. Voglio commentarveli per darvi la mia spiegazione circa le scelte che ho fatto. Partiamo dalla porta, Allison. Allison è stato sicuramente il portiere più forte per continuità di rendimento, per continuità di gioco. Ho escluso i due Juventini perché si sono suddivisi in una stagione pur l'avendolo giocato molto bene, ma chiaramente Allison ha giocato dall'inizio alla fine a livelli altissimi. È un portiere fortissimo che sicuramente prima o poi sarà in orbita dei grandi club europei. Spero che la Roma lo tenga per loro perché sicuramente è un portiere che di qui ai prossimi anche dieci anni, perché alla mia età, se non erro, può diventare il numero uno in Serie A. È difficile tenerlo perché i portieri del genere sono sempre sott'occhio dalle grandi biche, però insomma per ora la Roma se lo tiene ben stretto. A destra abbiamo Cancelo che è partito un po' malino ma che in realtà poi si è dimostrato un terzino molto valido. L'Inter ultimamente ha avuto, in ultimi anni, ha avuto qualche problema di terzini visto che viveva dalla memoria di Maikone e compagnia bella. Ha avuto tanti mezzi flop, Nagatomo, D'Ambrosio stesso adesso e altri via dicendo ed Albert che ha anche preso quest'anno, ma invece Cancelo è stato veramente un validissimo giocatore che adesso bisogna vedere se riscatteranno o meno, in ogni caso grandissimo terzino, molto offensivo chiaramente, però molto forte. Skriniar è la rivelazione. Scorso anno è arrivato all'Inter che nessuno quasi conosceva il suo nome, cioè ok, ho giocato alla Sampdoria ma tutti dicevano, boh, chi sarà questo Skriniar? Invece si è rivelato il difensore secondo me più forte della Serie A e anche più forte di quelli che poi menzionerò. semplicemente per rendimenti, è stato veramente fortissimo, io ce l'ho avuto anche quando a calcio e posso confermare. A fianco Chiellini, Chiellini è un mostro, Chiellini nonostante l'età stia avanzando perché sono 34 quest'anno, non molla un colpo, è il King Kong di sempre e Chiellini veramente un valore aggiunto per questa squadra e sarà anche il futuro capitano. A sinistra Kolarov, Kolarov che è un giocatore che si è rivitalizzato grazie alla Roma, giocatore dimenticato da alcuni visto che Guardiola evidentemente non l'aveva traduzione grazie al Manchester City, giocatore che era Lazio, fece molto bene se ricordate, poi è nato al City e ha fatto una discreta carriera al City, un po' dimenticato, un po' passato in sordina, ma la Roma ha fatto una stagione enorme, un po' calata verso la fine, complice anche il fatto che ha 3-2 anni, complice tanti discorsi, ma ha giocato veramente molto bene e poi sul sinistro è veramente da cecchino. I tre in centrocampo, partiamo con Allan che è il Mastino, Mastino anche con una tecnica molto buona del Napoli e secondo me è il vero valore aggiunto di quel centrocampo perché Amsic secondo me è molto calato, pertanto Allan ci ha alternato comunque spesso con giocatori non al suo livello, contando che comunque il turnover del Napoli sia stato molto scarso, Giorgini è molto forte che sta assolutamente in quella posizione in cui lo vedete, però ho preferito Allan perché secondo me è un giocatore che vorrei assolutamente tra l'altro nella mia squadra. A destra Nengolan, altro Mastino, giocatore molto importante, molto forte, non convocato in nazionale ma non per motivi sicuramente legati al rendimento ma altri, è un giocatore antipatico, quello che volete ma Nengolan è sempre stato un po' il sogno di tutti i tifosi giuventini per il dopo Vidal, per quello che rappresenta come giocatore al di là dell'uomo molto discutibile. Infine Milinkovic Savic che secondo me adesso è il desiderio di mercato di tutta Italia e forse anche mezza Europa, è un giocatore che fa della fisicità un punto di forza ma anche della tecnica, ricorda molto Pogba ma con più consapevolezza del fisico, cosa molto importante, è un 95 quindi ancora relativamente molto giovane e vediamo adesso se questo mercato regalerà a qualcuno questo Savic che è il sogno veramente di tutti. Il tridente, io partirei da destra con Dybala, Dybala che in campionato forse ha fatto meglio che in Europa, complessivamente è stagione antalenante però in campionato terzo nella classifica Cannonieri, ha iniziato molto bene, ha finito molto bene, qualche su e giù ma diciamo che alla fine Dybala è sempre un giocatore molto forte e ha fatto complessivamente in campionato molto bene. A sinistra Luiz Alberto che insieme a Immobile vanno a completare il reparto offensivo, due giocatori che secondo me almeno per quanto riguarda Immobile non sono dei fenomeni, ma grazie ad Inzaghi e appunto al gruppo che ha creato è riuscito anzi Inzaghi a dare alla squadra una specie di filosofia di gioco, comunque ha fatto esaltare i giocatori che sulla carta potevano andare molto meno. Luiz Alberto nessuno si sarebbe aspettato un rendimento così alto e Immobile che condivide la classifica Cannonieri con Icardi a 29 gol, nessuno si sarebbe aspettato che un giocatore come Immobile che io reputo non fortissimo avrebbe fatto tante cose. Immobile tra l'altro ha preferito Icardi per oltre ai gol anche gli assist, quindi la cooperazione e la collaborazione nel gioco della Lazio. Veramente la Lazio ha fatto benissimo nel reparto offensivo, questi due giocatori qua mi sembravano insieme a Savic e Centrocampo i veri artefici del Cammino della Lazio che per anche errori dell'allenatore, anzi soprattutto errori suoi, ha perso l'occasione di entrare in Champions League. Eccoci qua con gli altri 11, la panchina del 3-12 perché ho voluto premiare in porta la coppia insieme Buffon-Chesni per i motivi che sapete perché la difesa della Juve è stata solidissima grazie anche a due portieri del quale il secondo Chesni non ha fatto in nessun modo sentire la mancanza del primo portiere Buffon. A destra ho messo Florenzi perché intanto a me piace molto e poi ho avuto qualche difficoltà a scegliere un terzino destro, in effetti i nomi, cioè non è che ci fossero molti nomi ecco, e allora alla fine ho scelto Florenzi perché comunque ho messo insieme il fatto che la Roma ha fatto un buonissimo campionato e Florenzi a me è sempre piaciuto. Sinceramente ho difficoltà a trovare un nome alternativo a questo, ma anche per Cansello in realtà ho fatto difficoltà. Della Juve non ho messo i due terzini della Juve perché hanno giocato in modo alternato e l'Iksteiner sicuramente non a livello da top 11. In ogni caso ho messo Florenzi, mi pare anche una scelta decente perlomeno. Benatia. Benatia non è rivelazione perché Benatia si conosce, ma sicuramente ha avuto continuità di gioco di rendimento quest'anno, cosa che non ho mai avuto dopo gli infortuni che sono appunto, che ha avuto più o meno da quando è stato il Bayern Monaco in poi. L'ultima stagione che ha giocato così tanto, credo che sia, non vorrei sbagliarmi, quella della Roma perché ha giocato tutto il campionato. Il Bayern Monaco è il scorso anno anche la Juventus, ha fatto su e giù, insomma, tra panchina del campo. Ti dobbiamo dire che Benatia è stato fortissimo e quindi è giusto metterlo qua. Koulibaly l'ho messo qua semplicemente perché i posti nella top 11 ci sono due e ho voluto premiare Schiellini e appunto Skriniar, però Koulibaly è stato forse uno dei migliori difensori del campionato appunto del Napoli. In effetti questi quattro qua potrebbero tranquillamente diventare due copie titolari, però chiaramente i posti sono quelli e non posso fare miracoli. A sinistra è voluto premiare Asamoah, Asamoah perché si è insomma in qualche modo rivalutato tanto che adesso andrà appunto all'Inter per sapere un buono stipendio e probabilmente un posto da titolare. Asamoah è un giocatore che non ha fatto in nessun modo sentire la mancanza, appunto di Aleksandro che è calato vistosamente. Scorso anno nella top 11 metteva Aleksandro, adesso nella top 11 Aleksandro proprio lo escludono anche dalla top 22, ecco, prendiamola così. Purtroppo è così, ma Samoa insomma ha fatto il suo buonissimo lavoro. E il centrocampo? Pjanic. Pjanic è regista, ha voluto metterlo qua appunto perché alla fine i motivi sono sempre i soliti, i posti sono pochi e devo fare delle scelte e non vorrei sempre sembrare quello che fa le scelte solo con i luventini appunto perché sui luventini ci sono tanti luventini perché abbiamo vinto il campionato, ma insomma anche sparsi tra titolari e non. Pjanic, buona stagione ma non eccellente a dirla tutta, però alla fine insomma è sempre tra i migliori sei centrocampisti della Serie A. Adesso è Cristante, che Cristante si è ritrovato grazie all'Atalanta dopo essersi perso con qualche prestito, qualche cessione dovuta appunto al passaggio dal Milan in poi e si sa che questi giovani mandati un po' qua un po' là alla fine rendono poco. Ha trovato la sua dimensione con l'Atalanta e adesso si vocifera già che ci siano interessi da parte delle big italiane appunto per il suo nome, quindi vuol dire che qualcosa di buono ha fatto, anzi molto buono. E Matuidi a sinistra, che è stata la rivelazione del centrocampo della Juve, un giocatore continuissimo, molto continuo, che brutta parola, continuissimo. E' un giocatore molto continuo che da subito si è ambientato nell'ambiente appunto juventino. Matuidi quindi va in ogni caso messo. A destra, Douglas Costa, che lo metto solo vice di bala, semplicemente Douglas Costa è uscito dopo, per quanto riguarda appunto l'adattamento che ha dovuto subire in qualche modo all'inizio del campionato. però c'è anche da dire che Douglas Costa ha reso molto bene in campionato, ma soprattutto in Champions League e verso la fine, perché è un giocatore molto europeo. E Douglas Costa è comunque un giocatore che rende al massimo se utilizzato a partita in corso, appunto perché brevilinio e appunto ammazza le difese stanche durante la partita. In ogni caso, Douglas Costa, per essere il primo anno, è già in una top 22, credo che sia, tantissima roba. A sinistra insigne, perché dal tridente del Napoli ho visto un calo di Mertens e Calejón, e ho visto in insignia un po' la luce, insomma, in qualche modo del Napoli, che ha trovato un equilibrio quest'anno, infatti se guardate la classifica canonieri non c'è Mertens tra i primi, ma ha trovato un equilibrio e una specie di, come dire, interpretazione più da big, cioè il fatto che alla fine, se guardate bene la classifica canonieri, Di Bala è il terzo, ma i primi sono i mobili e i card, i mobili e i card che fanno parte della, appunto, quarta e quinta classificata. Vuol dire che non è che per forza devi mandare su dei giocatori, come fu per Iguaini qualche anno fa con i 36 gol e poi però non si vince niente. Ecco che appunto, avere tutti i giocatori che cooperano in qualche modo, infatti abbiamo noi che dire che ha una decina di gol, più o meno, il campionato, quasi 10 gol, abbiamo appunto Di Bala, abbiamo D'Agrascosta, abbiamo Iguaini, abbiamo tanti marcatori appunto perché tutti sono indispensabili in uguale misura, in questo caso mi sento di mettere insignia dei tre davanti. E infine i card che semplicemente l'ho messo qua perché ho messo i mobili di là, insomma non è che ci sia tanto da dire, non è che possono metterli insieme. I card è un discorso appunto di premi personale appunto per i gol fatti, però poi alla fine secondo me quello che conta è quello che fa il gruppo, la squadra, se arrivi quarto classificato e vinci la classifica canonieri sicuramente è peggio di divare magari terzo ma vincere il campionato, poi ognuno fa le sue scelte. Bene ragazzi il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, come detto prima qui sotto aspetto le vostre formazioni che sono 11 o che sono 22, fa lo stesso, nel caso vogliate appunto partecipare qui sotto aspetto le vostre opinioni così discutiamo tenendo conto anche magari di giocatori che non ho menzionato perché o mi sono dimenticato perché semplicemente vi ho visti poco e ne conosco poco le doti che hanno. Aspetto i vostri commenti, forza Juve e alla prossima, ciao! Paura, paura, paura Paura, paura, paura Grazie a tutti.